Hanno studiato e provato molte volte prima di salire sul palco per la notte nazionale del liceo classico. A mettersi alla prova, divertendosi, sono stati gli studenti e le studentesse di 350 licea italiani, tra di loro anche gli oltre 150 iscritti del liceo Campana di Osimo, che nella cornice del teatro cittadino La Nuova Fenice sono stati protagonisti di opere teatrali, parodie e performance di vario genere. Per noi ragazzi e ragazze del liceo classico di Osimo, questa occasione è un'occasione unica perché ci permette proprio di portare sul palco e far vedere alle nostre famiglie, a chiunque voglia partecipare a questo evento, quello che per noi è proprio un'esaltazione forse del nostro studio e della nostra passione per il mondo classico e portato appunto in una chiave molto creativa. I giovani hanno dato il meglio di sé e hanno sorpreso genitori, docenti e cittadini. Inoltre hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con i loro colleghi di un istituto tedesco, i quali hanno anch'essi preso parte alla maratona di spettacoli che è andata in scena dalle 18 alle 23 di venerdì 19 aprile. Hanno lavorato insieme gli insiganti di italiano, di greco, latino, storia dell'arte, e insomma attraverso un tema comune che è quello del labirinto, l'hanno sviluppato e hanno creato dei lavori particolari che dal mondo classico arrivano fino ad oggi. Lo scambio tra i due istituti ha dato un taglio internazionale alla notte del liceo Simana, notte durante la quale il tema è stato anche la donna tra mito e realtà.